Sono Anna e parlerò un pochino invece a nome di Fridays for Future. Noi come Fridays ci stiamo interrogando su come stia cambiando la lotta per la giustizia climatica in questi anni e vediamo chiaramente come già gli interventi prima di me hanno sollevato la dimensione tecnocratica con cui si cerca di rispondere a questa crisi in atto, quindi soluzioni meramente tecniche per invece un problema che è sistemico. Per questo abbiamo parlato, volendo o non volendo, di adattamento alla crisi climatica in corso però per noi è molto importante in questo momento risignificare questo termine risignificare il tema dell'adattamento alla crisi climatica e il tema dell'acqua, il tema della società hanno portato alla luce la centralità di quanto l'acqua sia centrale appunto nelle nostre vite e di come sia un tema appunto che vive le stesse contraddizioni, gli stessi paradossi del paradigma appunto neoliberale. dobbiamo ripropiarci del termine di adattamento perché deve essere un termine e una modalità non compatibile col sistema capitalista che non sia compatibile col modello di capitalismo, un adattamento che in qualche modo sia un ribaltamento di un modello di sviluppo esistente, un adattamento che parli appunto di decrescita e questo è in netta contrapposizione con invece quello che appunto veniva detto prima sta avvenendo, quindi la costruzione di nuove grandi opere, la costruzione di invasi, la costruzione di bacini e sicuramente essendo qui facendo questo dibattito qui in Veneto è impossibile anche non portare alla luce quella che è uno dei grandissimi eventi, delle grandissime opere che verranno costruite nei prossimi anni i cui lavori stanno già iniziando che sono le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e saranno le prime, a proposito di acqua, le prime Olimpiadi in Italia dopo tanti anni, le prime Olimpiadi in cui si ispireranno a quelle di Pechino 2022 che sono state le prime Olimpiadi invernali appunto con la neve artificiale al 100%, la neve al 100% artificiale e questo se ci pensiamo un secondo è totalmente assurdo, non possiamo fare qualcosa materialmente perché si sta dimostrando che nei prossimi anni la neve sulle nostre Alpi come lo sono le precipitazioni sarà sempre meno però desideriamo comunque andare oltre, desideriamo comunque creare qualcosa e fare profitto su qualcosa che non esiste e lo possiamo creare. Quindi come veniva detto prima tra l'altro si sta costruendo verso l'orizzonte appunto delle Olimpiadi dei laghetti artificiali in montagna che già esistono ma che sono come appunto diceva prima Goltara, Andrea Goltara, inutili in quanto appunto sta piovendo sempre di meno, sono laghetti a cielo aperto quindi la maggior parte dell'acqua evapora, la maggior parte dell'acqua è inutilizzabile perché si creano delle alghe, si creano delle cose appunto che non permettono di utilizzare quest'acqua o che comunque richiedono dei processi di purificazione, che richiedono un sacco di soldi per lo sfangamento, per la manutenzione e quindi sarebbe dell'acqua a questo punto se non piovana, totalmente insomma estratta dai nostri fiumi, dai torrenti alpini da un'acqua invece, quell'acqua per la vita, per la vita sociale di cui abbiamo bisogno e di cui insomma necessitiamo giornalmente. Quindi all'interno di questo paradosso assurdo ci domandiamo e ci poniamo anche il fatto che tra l'altro le Olimpiadi insieme al fatto che non ci sia una valutazione nazionale, ambientale, strategica in corso, nel fatto che non ci sia una decisione, una decisionalità di territori perché queste Olimpiadi sono state approvate con un sondaggio fasullo che chiedeva 2500 abitanti italiani di cui solamente 600 veneti di cui nessuno a Ampezzano, nessuno di Cortina, nessuno delle montagne si erano d'accordo o meno per la costruzione di queste Olimpiadi e questo è stato l'unico passaggio insomma perché come diceva prima vengono a mancare tutti i passaggi decisionali che andrebbero fatti con la calma, con il tempo per queste grandi opere e è stata appunto a mancata e nonostante i proclami dei promotori che dicevano che questa grande opera, che questo evento sarebbe stato a spesa zero, che il 92% delle infrastrutture esistevano già, vediamo invece come si sta facendo un utilizzo spropositato di beni pubblici, di denaro pubblico in disboscamenti, in cementificazione che di conseguenza porta anche a siccità, porta a devastazione, porta a isole di calore, a beneficio appunto di operatori privati che sembrano essere totalmente indifferenti agli aspetti geologici e paesaggistici del territorio appunto delle Dolomiti, mentre invece la popolazione si ritrova in mancanza, la popolazione appunto il vero presidio di questa integrità dei territori e della salute dei territori si trova in mancanza nelle Dolomiti e nei territori comunque di montagna di servizi essenziali per rendere vivibili le valli e per riservarne anche la bellezza, c'è una mancanza di servizi dal punto di vista della salute pubblica, di servizi dal punto di vista di una mobilità sostenibile che appunto vengono totalmente a mancare. e questa cosa la possiamo vedere insomma dai più punti di vista e secondo noi insomma anche come io parlo anche da Ampezzana, da persona che adora e ama le montagne, secondo noi questo è un tema troppo grande per essere ignorato, è un tema che deve riguardare a partire dal tema dell'acqua, a partire dal tema dell'assicità, a partire dal tema dell'innevamento artificiale, a partire da questa serie di assurdità che stiamo vivendo, queste contraddizioni che stiamo vivendo, deve essere un tema che interroga i movimenti e li mette in un'ottica di collaborazione e iniziativa per fermare questa ennesima grande opera che il nostro paese con la corruzione, con la mafia come al solito vede attuarsi, perché ad esempio anche in Francia in questo periodo c'è stata appunto una lotta, perché si vedranno nel 2024 le Olimpiadi anche a Parigi, in Francia appunto, e non è stata slegata questa lotta appunto da quella che è stata la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici per le pensioni, perché ovviamente gli investimenti immensi che venivano dati per le Olimpiadi toglievano invece, andavano insomma a smantellare le basi della sicurezza sociale, quindi di tutto quello che invece i lavoratori e lavoratrici pretendevano. Quindi lo possiamo vedere allo stesso modo in Italia, con i soldi del PNRR che da una parte vengono negati ai lavoratori e ai lavoratrici dello spettacolo e vengono destinati per queste grandi opere inutili che daranno soldi a pochi, che rimarranno per poco tempo nel territorio, perché sappiamo bellissimo che le mega infrastrutture delle Olimpiadi sono destinate a durare per il tempo delle Olimpiadi, nella maggior parte essere totalmente inutilizzate, come abbiamo visto succedere per tutti i grandi eventi all'Expo nel 2015 a Milano, a Torino, alle stesse Olimpiadi che adesso ricadono in un abbandono totale per la loro inutilità e il loro inutilizzo nel lungo tempo. E anche un punto di vista economico, infatti sappiamo che le grandi città che hanno appunto portato e hanno avuto dei grandi eventi ora rimangono con dei debiti allucinanti, rimangono in una situazione appunto di crisi economica anche da questo punto di vista e non si può insomma paragonare una città come Milano, come Torino, alle nostre Dolomiti che sono proporzionalmente tanto belle insomma quanto fragili, in quanto sono un territorio essenzialmente molto appunto delicato in cui c'è una fuga anche da quei territori, da parte dei giovani, da parte delle giovani, pensiamo che nel bellunese negli ultimi anni il 40% della popolazione se ne è andato via, che mancano i servizi, la montagna non viene curata, mancano tantissime cose e quello che si propone a queste persone sono delle grandi opere che devastano il loro territorio, che sfruttano le persone, che sfruttano le risorse, che producono morte, che producono devastazione e che quindi insomma non ci lasciano la voglia di rimare nel nostro territorio e di viverlo in una maniera sana perché non lo riconosciamo quasi più forse. E per questo per noi appunto è importante dire che i movimenti di questa cosa non potranno non occuparsene perché riguarderà tutti dall'Idal Sud al Nord Italia in quanto come appunto dicevamo prima i soldi del PNRR, i soldi che verranno investiti sono soldi che vengono tolte invece a una nostra concezione, a una nostra idea di una transizione ecologica che non sia appunto capitalista come questa. Queste Olimpiadi sono state raccontate come le prime Olimpiadi sostenibili, con le Olimpiadi della sostenibilità che lasceranno un sacco di cose positive, che lasceranno appunto un'idea di sport sostenibile e quindi anche insomma moltissime forme di greenwashing le stiamo già iniziando a vedere e le vedremo per tutta la durata di questo grande evento. Quello che vogliamo noi insomma di cui questo tema appunto lo affronteremo anche al Venice Climate Camp che si terrà a Venezia quest'estate al Lido di Venezia è che questo è un tema largo, va affrontato in una complessità e va affrontato appunto tutti e tutte, lo mettiamo a disposizione come un percorso che è un po' appunto quello delle Olimpiadi che è il paradigma di estrazione delle risorse, il paradigma di estrazione di beni pubblici e il paradigma di quel salto di decisionalità di territori come veniva detto anche prima e quindi che vede solamente i territori come appunto delle arene di profitto. Quindi secondo noi sarà importantissimo parlarne perché non riguarderà solamente il territorio del Veneto, di Milano ma del Trentino perché riguarderà appunto tutto quello che è crisi climatica, tutto quello che è la salute, il benessere dei territori e quello che è della giustizia sociale ed ambientale. Per cui sicuramente ci aiuterà come movimenti a ricomporci e allargare anche la nostra prospettiva come veniva detto anche prima, quindi questo.